Circa 200 rom hanno chiesto e ottenuto asilo nella Basilica di San Paolo, a Roma, subito dopo essere stati sgomberati dal loro campo. Il sindaco alemanno ha in questi giorni impegnato il comune della capitale in un'intensa campagna di sgomberi dei campi abusivi. Circa 1000 persone sono state allontanate dai loro accampamenti in una settimana. L'azione del sindaco è stata criticata dalla comunità di Sant'Egidio, che da anni si occupa dei rom, secondo cui non si intravede una politica di accoglienza e umanità all'altezza del ruolo di Roma e della sua responsabilità nazionale e internazionale. Parole a cui alemanno ha risposto con altrettanta durezza, sono fuori dalla realtà. Il pugno duro del sindaco non piace neanche Amnesty International, che ha lanciato un'azione urgente per chiedere al prefetto di Roma di fermare immediatamente tutti gli sgomberi forzati degli insediamenti di Roma a Roma. Intanto a San Paolo l'incontro tra rom, prefettura e comune, tenutesi a porte chiuse, si è chiuso con un nulla di fatto e sui rom, che rimarranno nella basilica, pesa la minaccia che se trovati fuori dal recinto della chiesa le famiglie verranno divise d'imperio e levata la patria potestà per i minori, che verranno affidati ai servizi sociali.